Puff, potrei fare la sigla di Kenny il guerriero, mai mai scorderai L'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio Va bene, basta vi risparmio, buonasera Dunque, dovevo fare il video con le piume di Cornacchia ma non c'avevo voglia di scendere di sotto in onore di un amico Che mi ci vedeva vestita con il costume del mio totem Che è il corvo, ma non ho piume di corvo, ho solo piume di Cornacchia in giro per casa, da qualche parte, ce l'ho Dunque No, questo è fagiano Questa è cornacchia Non mi si vuole infilare Questa è cornacchia Le altre no Così Faccio contento Emanuele Sembra che ho le orecchie Quelle della falena Che hanno il peluccio Vabbè A parte le piume di Cornacchia O dai, il paraflu Che le rimetto a posto Sono piume di cornacchiona Perché qua da me le cornacchie sono 50 cm Di che cosa potevo parlare? L'avete visto nell'introduzione del video Dell'esplosione Della distruzione Del Georgia Woodstone Ma cos'è? O meglio, cos'era, poverino? Ormai non è più nulla Il Georgia Woodstone Era un monumento Eretto nel 1980 Da un tizio che utilizzò uno pseudonimo E nessuno ha mai saputo di preciso chi fosse Composto da tre lastre di granito In queste tre lastre Che erano posizionate In maniera astronomicamente particolare In grado di segnare tutto il ciclo Annuale del sole Giornaliero Con determinate scanalature Che facevano passare In certi modi anche La luce del sole Soprattutto dallo zenit Quindi nell'ora di mezzogiorno In Georgia Dove poteva segnare L'ora esatta E il giorno e la data precisa Di ogni giorno differente Ma a parte l'enormità Degli studi architettonici Per montare una sorta di meridiana Così elaborata Stiamo parlando degli anni 80 Gli anni degli hippie e della new age Comunque Composto da tre lastroni di granito Alti 6 metri Pesanti circa 150 tonnellate Una cosa immane Che veniva anche definita La Stone Age americana Cosa c'era in queste tre lastre? In una C'erano i dati Delle lastre stesse Peso, altezza E lo pseudonimo Di chi l'aveva voluto Questo monumento In un'altra C'era il consiglio A seguire Le dieci regole Dettate invece In quella più importante Che poi è quella Che ieri mattina All'alba Quindi il 6 luglio Del 2022 Intorno alle prime ore Dell'alba Qualche Sconosciuto Ha fatto esplodere Ci sono Investigazioni In corso E lo stato Della Georgia Ha fatto smantellare Anche gli altri due pezzi Perché ormai Pericolanti Quindi Del Monumento Rimane Soltanto La traccia Della sua descrizione Ormai Chi erano i nemici Del Woodstone Le religioni Monoteiste Questa non è un'accusa Ovviamente Verso le religioni Ma gli unici nemici Che aveva Quel grande E colossale Quella grande E colossale Costruzione Quel monumento Aveva Come nemici Le religioni Monoteiste E in particolare Le religioni Che credono A Satana Al maligno In particolare Tutte le Sottodiramazioni Del cristianesimo E il cristianesimo Cattolico Stesso Perché? Perché al momento Della sua erezione Venne dichiarato Dai cristiani Americani Un monumento Voluto Da Satana Addirittura Che sopra Ci fossero incisi I dieci comandamenti Di Satana E sta cosa Mi fa ridere Ci sono sopra C'erano sopra C'era una volta C'è chi rivolta Ormai non c'è più niente Ma c'erano Dieci regole Che a detta Del monumento Stesso Sarebbero state Da seguire Se si voleva Che l'umanità Continuasse Su un percorso Pulito E vibrazionalmente Positivo Quali erano Le dieci regole Ovviamente Ve le leggo Perché a memoria Non le posso ricordare Parto dalla prima Mantieni Mantieni L'umanità Sotto i 500 milioni In perenne equilibrio Con la natura Ora Non so se siamo Una cosa Mi ricordo Una volta Eravamo 7 miliardi Forse oggi Siamo anche 11 miliardi Non guardo mai I dati Istat Ma comunque Siamo Come le stelle Di negroni Milioni Di milioni E oggettivamente Tralasciando L'amore Per l'umanità E quant'altro Oggettivamente Per questo pianeta Siamo Troppi La media Proposta Dal Guid Stone Era di 500 milioni Circa Per rimanere In costante Bilanciamento Vibratorio Con il resto Della natura E questa Già prima regola Andrebbe in contrasto Con le religioni Monoteiste Che invece Vogliono I matrimoni Per far figli A prescindere L'unico scopo Religioso Del matrimonio È quello Di fare figli In effetti Per le religioni Monoteiste La coppia È solo uomo Donna La coppia Deve fornicare Cioè Ciullar Solo Allo scopo Di fare figli E In qualsiasi Situazione In qualsiasi Caso E per qualsiasi Motivo È assolutamente Inaccettabile L'aborto Quindi Questa prima Regola Che diceva Invece Che dettava Il lastrone Di granito Cioè Mantieni L'umanità Sotto i 500 milioni In perenne Equilibrio Con la natura Si scontrava Pesantemente Con Ciò Che le chiese Monoteiste Professano Fino alla nausea Ma andiamo avanti Guida Saggiamente La riproduzione Migliorando Salute E diversità Questo cosa Significa Mescola Il più possibile Le razze Perché Le razze Umane Mescolate Come anche Le razze Animali Sono Fisicamente Estremamente Più Forti Delle razze Considerate Pure Tanto è vero Che Le malattie Genetiche Nascono Dove Gli individui Si mescolano Sempre Tra di loro E non Dove Si accoppiano Con persone Il più lontano Possibili Da se stessi Guida Saggiamente La riproduzione Quindi Fai attenzione Che si riproducano Persone Il più lontane Possibile Senza Legami Di parentele Di sangue Cerca Di mescolare Le razze Il più possibile Di modo Da creare Un'unica Razza Mondiale Più forte Fisicamente Più adatta Alla sopravvivenza Anche questo Va contro I canoni Della Religione Monoteista Che non ammette I matrimoni Misti Soprattutto Per quanto riguarda I credo Andiamo avanti La terza regola Diceva Unisci L'umanità Con una nuova Lingua viva Ovvero Fai in modo Che tutti i popoli Si capiscano L'un con l'altro Guai La chiesa Cristiano Cattolico Romana Ha sempre Insegnato Che chi ci ha Provato È finito Giù dalla torre Chi butti Giù dalla torre Era un giochino Di un Fumetto Horror Della Bonelli La torre Di Babele All'epoca Della torre Di Babele Secondo I racconti Biblici Gli uomini Parlavano Tutti la stessa Lingua Ed è stato Il dio cristiano Alias Dio ebraico Che Per punirli Ha cambiato Tutte le lingue Peraltro Il lastrone Della Whitstone Della Stonehenge Americana Era Scritto Cioè Queste dieci regole Erano scritte In otto Lingue Moderne E conosciute Diverse Dallo spagnolo All'italiano Al russo Al cinese Passando per l'inglese Il francese E altre Ma Era anche scritto In cuneiforme Quindi In un linguaggio Arcaico Antico Piccolo Parentesi Storico Culturale La quarta Domina Passione Fede Tradizione E tutte le cose Con la sobria Ragione Ovvero Se vuoi tenerti Una religione E vuoi continuare Con le tue usanze Folcloristiche Fallo anche Ma ragiona Su quello che stai facendo Usa la cavessa E questo Già di per sé Alla religione Monoteista Se usi la cavessa Non ce credi più Di conseguenza È il peggiore Degli attacchi Proteggi Popoli E nazioni Con giuste Leggi E tribunali Imparziali Imparziali Significa Che se è punito Il pedofilo Di famiglia È punito Il pedofilo Di paese Deve essere punito Anche il prete Pedofilo Questo significa È un esempio Il mio Ma tanto Per far comprendere Che le leggi Imparziali Non garbano Alle religioni Monoteiste Che invece Godono Della Dell'immunità Religiosa Lascia Che tutte Le nazioni Si governino Internamente Cosa che Non accade Perché purtroppo In occidente Siamo burattini Della Nazione Per eccellenza Di cui peraltro Sto parlando In questo momento E questo Non è gomblotto Ma è mera realtà E in oriente Anche ci sono Nazioni Che comunque Comandano più di altre Anche sulle minori E risolvi E risolvi le dispute Esterne In un tribunale Mondiale Evita Evita Le leggi Poco importanti E i funzionari Inutili E questo Fa tremare Tutte le Poltrone Quelle italiane Più delle altre Noi siamo L'unica nazione O una delle pochissime Nazioni Che abbiamo Tanti di quei Mangia a sbaffo Al governo Che non servirebbero A nulla E tante leggi Stupide O Assurde Stiamo ancora Pagando la tassa Per aiutare Il terremoto Dell'Irpinia Mi pare Che ormai In Irpinia Non ci vive più nessuno Da anni E anni E anni Ma a noi È rimasta La tassa Di aiuto All'Irpinia Che doveva durare Due o tre anni Dalla fatidica Tragedia Tanto per In tutte le nazioni C'è Un partito Al governo E un partito All'opposizione Noi ne abbiamo 72 a destra 47 a sinistra Un mix Nel centro E qualcuno Che se ne inventa Un what cazzo Un tipo Il partito Dei pensionati O cose Di quel genere E c'è Li manteniamo Tutti E poi ci lamentiamo Di quei quattro Poveri disperati Capigliano il reddito Di cittadinanza Togliessimo un po' Di spazzatura Da altre parti Ce ne sarebbero Tanti Di soldi In più Per la nazione E anche questa cosa Non garbava Né alle religioni Che comandano Da dietro le quinte Né tanto meno A chi comanda Mettendoci la faccia Bilancia Bilancia i diritti Personali Con i doveri Sociali E anche questa Gli erode Dubito che cardinali Vescovi E papi Lasciando perdere I preti Che sono dei poveri Stipendiati O i frati Che poracci Campano Delle mosina E di donazioni Ma Dal vescovo In su Non pagano Nemmeno Il pranzo Al ristorante Apprezza Verità Bellezza E amore Ricercando L'armonia Con l'infinito Che è ciò Che cerca Di insegnare Proprio La spiritualità E la spiritualità È l'esatto Opposto Della religione Non essere Un cancro Sulla terra Lascia spazio Alla natura Lascia spazio Alla natura Perché attualmente Noi siamo Dei parassiti Per il pianeta Io una volta Descrivendo Questi nuovi virus Che di tanto In tanto Escono A partire Dal covid A Altre tipologie All'ultimo Di moda Era il vaiolo Delle scimmie Ultimamente Stava uscendo Un'altra cosa Delle capre Mi pare Non mi ricordo Leggo Solo quando Devo farci sopra Il video Dei gomblotti Altrimenti Non leggo mai Le notizie E come sapete Non ho la televisione Non seguo assolutamente I fatti I fatti Di cronaca O di Aggiornamenti Di vita reale Non mi interessano Anche perché In televisione Ti fanno credere Quello che vogliono Loro Per cui Mi lasciano Il tempo Che trovano Ma Oggettivamente Una volta Appunto Descrivendo Questi fattori Dico Ma per forza Non è nessuno Che li crea In laboratorio E' il pianeta Terra Poverino Che sta cercando Di darsi L'antiparassitario Sta cercando Di usare Il medicherapì Per togliere Stipidocchi Dalla sua Testa Perché noi Obiettivamente E oggettivamente Siamo diventati Dei parassiti Per questo pianeta E lo stiamo Facendo marcire Come i parassiti Su una pianta Uguale Uguale Tutte queste regole Però Andavano contro All'interesse In primis Dei religiosi Altolocati Ed in Secondum Anche Dei poteri Politici Che appoggiandosi Alle religioni Aumentavano Il loro potere Da qui Salto fuori Chi Dichiarò Che questi In realtà Erano i dieci Comandamenti Di satana Ma se uno Li legge Per come Sono stati Scritti Sono La cosa Più Armoniosa E funzionale Che dovrebbe Essere L'esistenza L'esistenza Su questo Nostro Pianeta Chi sia Stato Non si Sa Come Come Chi ha Ucciso L'uomo Ragno Hanno Ucciso L'uomo Ragno Chi sia Stato Non si Sa Forse Quelli Della Mala Forse La Pubblicità E si Potrebbe Dire Anche Per la Quidstone Che Purtroppo Appunto Da Ignoti Almeno Per il Momento L'investigation Della Georgia Sta Indagando O Perlomeno Così Ha Dichiarato Ma Nessuno Suppongo Saprà Mai Chi è Stato A meno Che Non Tirino Fuori Un Capro Espiatorio Inventato Al Momento Giusto Per Incolpare Qualcuno E Mettere A Tacere I Possibili Dubbi In Ogni Caso Più In Questi Anni Si è Aperta La Mente Della Gente E Si è Aperta Una Piccola Finestra Sulla Vera Spiritualità E Più La Guidstone Iniziava A Far Paura Data Appunto La Situazione Pericolante Secondo I Dati Delle Indagini Sul Posto Degli Altri Due Pezzi Rimasti Che Sembravano Essere Pericolosi Da Lasciare E Stata Del Tutto Smantellata Ho Fatto Questo Video Perché Voglio Copiare I Suoi Dieci Iscritti Anche Nel Testo Di Sotto Voglio Far Girare Questi Dieci Iscritti Voglio Che Le Persone Che Li Leggono Ci Ragionino Sopra Uno Per Uno E Voglio Che Questi Dieci Testi Mini Testi Di Regole Di Vita Sana Sul Pianeta Terra Non Vengano Cancellati Non Vengano Fatti Esplodere Come Il Granito Che Li Conteneva All'inizio Grazie A internet Perlomeno Si possono Continuare A far Leggere E a far Girare Anzi In In Questo Modo Verranno Maggiormente Letti E Ragionati Perché Perché Fino A ieri Che E Esploso Il Marmo Che Li Conteneva Nella Whitstone Un Buon Ottanta Percento Se Non Di Più Del Popolo Mondiale Che Non Fosse Americano Non Sapeva Nemmeno Cosa Fosse La Whitstone Ma Grazie A Questo Incidente Che Voleva Cancellarne L'esistenza In Realtà Adesso La Whitstone È Veramente Per Tutti Quanti Quando Si Dice Che Il Diavolo Fa Le Pentole Ma Non I Coperchi In Questo Caso Il Diavolo Che Ha Fatto Le Pentole Ma Si Ha Scordato I Coperchi È Quello Che Accusava La Pentola Stessa Di Essere Del Diavolo Il Video Finisce Qui Ma Spero Vivamente Che Ci Ragioniate Che Cerchiate Ulteriori Nozioni E Idee Per Il Web E Che Non Vi Facciate Condizionare Invece Dai Complottisti Le Frasi Sono Quelle Che Vi Ho Letto E Che Riporterò Anche Qui Sotto Il Resto Spetta Solo Al Vostro Metro Di Giudizio E Alla Vostra Capacità Di Interpretazione Durante La Lettura O L'ascolto Detto Questo La Pigrotta Di Lady Ghost E Lady Sadako Salutano La Pigrotta E Lady Ghost E Lady Sadako Innocente Io Invece Pure Vi Ricordo Qua Sotto Tutti I link Dei vari Social Dove Mi Trovate Un po' Più Sotto Tra Quattro Degli Invece Mille Mila Link Che Tengono Invenite I miei Libri Che Finalmente Su Sette Perché Testimonianze Di Una Vita Volume Uno È Uscito Ufficialmente Già Da Una Settimana È Reperibile Su Tutte Le Librerie Online Quindi Da Amazon Libri Streetlib Mondadori Feltrinelli Libreria Universitaria E Quant'altri In tutto Il mondo Sia In versione Ebook Sia In versione Cartacea Come Tutti I miei Libri E Quando Li Ho Disponibili Adesso Ne Ho Ancora Una Decina Anche Direttamente Da Me Ciao